Dici motociclismo e pensi subito alla Romagna, terra dei motori, dei campioni, dei tracciati permanenti come la Santa Monica di Misano o di gare su strada. Chissà perché si ritiene a torto che altrove il motociclismo, almeno nella specialità della velocità, sia qualcosa di episodico, di ristretto, magari circoscritto a pochissimi appassionati. Prendete la mia città d'origine, prendete Treviso. Cosa pensate se vi dico Treviso? Radicchio rosso, prosecco, tiramisù, piumesile, i benetton, altri sport, basket, volley, rugby, magari una spruzzatina di calcio. Sono questi i primi pensieri che vi vengono in mente, scommetto. Eppure, eppure anche la mia città ha una tradizione affatto trascurabile di motociclismo. Avete mai sentito parlare di Omo Bono Tenni, l'alfiere in tutta nera della Moto Guzzi tra le due guerre mondiali? Lui, anche se era bergamasco di origine, crebbe in questa città. E proprio a Treviso si affermò come campione. Campione praticamente imbattibile negli anni 30. Pensate che fu il primo italiano a vincere all'isola di Man nel terrificante Turistrophy. A Treviso, in cognome Tenni, è un'istituzione. La sua famiglia ha messo radici anche dopo il tragico incidente in Svizzera che costò la vita a Omo Bono. I suoi eredi gestirono a lungo la concessaria locale della Moto Guzzi e lo stadio cittadino è intitolato alla sua memoria. Ma sempre da qui, da questa provincia, esattamente da Motta di Livenza, avviene anche un altro motociclista, Gino Borsoi. Magari ve lo ricordate come il cobra killer della Malesia. 1998. Gino uccise involontariamente con una ginocchiata a un serpente che si era avventurato in pista durante le prove della classe 125. Leggenda vuole che quell'episodio, del tutto involontario, gli abbia sì dato una grande eco planetaria, ma al contempo gli abbia portato sfortuna, che sia a colpa della cabana o della superstizione. Vabbè, non ce ne occupiamo in questo caso. Ma anche la sua famiglia gestisce una concessaria di moto, in questo caso a Oderzo. Insomma, corse, ma anche business. E poi c'è un terzo personaggio, che non è esattamente autottono, ma che qui ha piantato radici. Si chiama Cosè Alberto Cecotto Persello. Per tutti è semplicemente Johnny, Johnny Cecotto. Il talento del Venezuela che, dopo aver appeso Tudda e Casco al chiodo, ha deciso di trasferirsi qui, a poca distanza dalle mura cittadine. Ma chi è Johnny Cecotto? Figlio di migrati friulani con i motori nel sangue, suo padre fu campione nazionale 500 su Norton e, ovviamente, proprietario di una concessionaria. Pare che le due cose siano inscindibili. Johnny è approdato giovanissimo alle corse in circuito. Pensate che già a 16 anni si cimentava i selli alle potenti Honda 750 e alle pericolose Kawasaki Mark IV, le temute bare volanti. Così chiamate perché accoppiavano una potenza mostruosa a un telaio semplicemente adatto a contenerla. A 17 anni, il giovane Cecotto viene contattato dalla Venemotos. L'importante dice Yamaha per il Venezuela, che gli propone di cimentarsi con a 3,50 la categoria intermedia delle moto da GP, poi scomparsa. Che il ragazzo abbia talento? È in dubbio. Lo si vede in pista. Ammutolisce gli scettici e esalta le sempre più apie schiere dei suoi tifosi. Titolo nazionale di categoria al primo colpo. Bis l'anno dopo con anche l'alloro sudamericano. Abbastanza per convincere la Venemotos a puntare su di lui in ottica mondiale. E nel 1975, Venemotos allestisce un apposito team con Johnny Cecotto, pilota di punta. Il moto mondiale di metà anni 70 era tutta un'altra musica rispetto ad oggi. Meno soldi, meno elettronica, molta più meccanica, meno attenzione dei media, pochissima sicurezza per i piloti, trasferte in camper o in roulotte. Le ragazze assiempate immagini del paddock della segreta speranza di conquistare uno degli scappestrati in tutta di pelle. Tanto per dirne una, la tappa finlandese del moto mondiale, i Matra, era temutissima a causa dell'assenza di misure di sicurezza e della caratteristica stradale del circuito. Pensate che a un certo punto si doveva attraversare a tutta velocità dei binari della ferrovia con un salto pauroso. Eppure i piloti partecipavano molto volentieri a quella gara. Perché? Beh, perché le biondissime tifose locali facevano a gara per infilarsi nei camper delle squadre per una notte di passione e di adrenalina. Ecco, quel moto mondiale piaceva per il suo lato romatico e rischioso, per la somma tra pericolo, incoscienza, azione, velocità e spirito libertà. L'apparizione in questo circo itinerate del 19enne Cecotto, salutata inizialmente come una sorta di novità esotica e nulla più, viene in poco tempo rivista come l'alba di un campione. Un campione però difficile da inquadrare. Al debutto assoluto al Paul Ricard, 30 marzo 1975, Cecotto costringe ogni critico a ingoiare la lingua, presentandosi al via tanto nella 250 quanto nella 350 e le vince tutte e due le gare. Incredibile! Un ragazzo che non era mai uscito dal Venezuela o comunque dal Sud America, ancora giovanissimo, al debutto del campionato iridato, che mutolisce tutti e vince ben due classi su un circuito che non conosce. Il Venezuelano chiude quella stagione con 6 vittorie complessive, 4 in 3,50 e 3 secondi posti, quarta posizione nella categoria 2,50 e soprattutto il titolo assoluto da debuttante nella 3,50. Davanti a un certo Giacomo Agostini, ne avrete già sentito parlare, il pilota più vincente di tutti i tempi del moto mondiale. È nata una stella, ma Cecotto, si sa, non vuole fermarsi, è giovane, ha voglia ancora di stupire e il 1975 è il suo anno magico. All'epoca, oltre alle canoniche classi del moto mondiale, classi 50, 125, 250, 350, 500, era presente anche un campionato non ufficiale, nel senso che non era fregiato dal titolo di campione del mondo, ma combattutissimo. La Formula 750, che organizzata in una World Series, vedeva a Elvia bolidi tanto potenti quanto impossibili da guidare. Ha Cecotto la sfida piace, vuole correre anche in quella competizione. E ritrova, come compagno di marca e avversario, ancora lui, Mino Giacomo Agostini, a Daytona, nella 200 miglia, una corsa leggendaria. Il venezuelano ha dei problemi in qualifica e la partenza risulta ultimo al primo giro. Finisce qui, ma neanche per sogno, Cecotto stupisce tutti. Diventa il venezuelano volante, fa una rimonta pazzesca, 74 sorpassi, 7-4. Vi sfido a trovarne altrettanti in una corsa odier da parte di un solo pilota. L'ultimo sorpasso lo fa ai danni di un incredo Agostini che, furente di rabbia, si domanda da dove arrivi quel dannato ragazzino che gli ha già soffiato il titolo nella 3 e mezzo. E con quell'ultimo sorpasso, Gianni Cecotto raggiunge il podio, all'esordio, nella categoria 7 e mezzo, nella 200 miglia di Daytona, davanti a un pubblico in delirio e con i giornalisti che non sanno più cosa scrivere. Ma l'appuntamento con la vittoria a Daytona è riviato solamente all'anno dopo. Nel 1976 c'è lui sul gradino più alto del podio della corsa più massacrante d'America. Mentre nel 1978 arriva anche il titolo della 7 e 50. È un titolo però che è destinato ad essere fiera a se stesso. La 7 e mezzo è una sorta di monomarca Yamaha e non è riconosciuto ufficialmente. Vale comunque come secondo titolo intercontinentale in carriera a fronte di un maggiore impegno nella categoria anche a scapito della 3 e mezzo e della 500 gp. Ma i tempi stanno cambiando. Lo cantava Gianni prima Bob Dylan. Spira un nuovo vento improntato ad un approccio più serio, più concreto, più metodico, meno rischioso. Qualche tempo prima e dopo le tante proteste dei piloti contro le morti insensate, il mitico Tourist Trophy era stato escluso dal calendario del moto mondiale ed è classato a corsa sempre ad altissimo tasso di pericolosità ma senza il cappello del campionato irritato. Con la Formula 750 destinata a morire per volere della federazione internazionale, la Formula TT ritenuta un campionato minore e la superbike ancora lontana dal concretizzarsi, Cercotto decide di cercare altrove nuovi stimoli. Campionati si sa, si nutrono di sfide continue. E per chi come lui a quell'età, ha già una bacheca abbastanza piena di trofei motociclistici, è arrivato il tempo di spostare altrove il proprio obiettivo. Nella lunga storia degli sport motoristici, ad oggi vi è un solo pilota capace di laurearsi campione del mondo tanto nel motociclismo nella massima classe che nella massima categoria dell'automobilismo a ruote scoperte su pista. Quella mosca bianca rispondeva al nome e cognome di John Sarkis, scomparso alcuni anni fa. Un britannico che fu capace di ottenere sette, e dico sette titoli su due ruote, tre nella tre e mezzo, quattro in cinquecento, per poi accomodarsi a volate delle vetture di Formula 1 e cogliere il successo con la Ferrari nel 1964, per poi diventare lui brevemente costruttore. Nessuno dopo John Sarkis è riuscito a bissare una simile impresa. Ecco dunque che lo stimolo perfetto per chi è sopravvissuto alle corse più pericolose, vicendo per giunta, è servito cancellare il record di Sarkis, riscrivere la storia, smettere la tutta da centauro, indossare quella ignifuga da pilota delle quattro ruote. È quello che fa Cecotto che si infila nell'abitacolo delle monoposte. I primi approcci avvengono in Italia con Giancarlo Minardi, il patron della futura scuderia di Formula 1. Ma siamo in Formula 2, campionato minore per l'epoca, 1981. Cecotto raccoglie buoni risultati con la scuderia fa in tira. Risultati che lo proiettano nella lista degli scout delle squadre britanniche. L'anno dopo Lamarck, un nome storico, gli offre un posto nella squadra europea e viene ripagata con il secondo posto nel campionato continentale. Tempi quindi sono maturi, si può tentare il grande balzo in Formula 1. Ma per un pilota privo di un pedigree assoluto, l'apprendistato è qualcosa di fondamentale. Anche se in precedenza alcune scuderie minori avevano offerto a Cecotto la possibilità di correre una sola gara in Formula 1, come una sorta di wildcard, nulla appariva più importante di riuscire a completare un'intera stagione per dimostrare di poterci stare in quell'ambiente. Ecco che il nostro venezuelano accetta la proposta che gli arriva da Teddy Heap, un uomo d'affari di Hong Kong, patron di una scuderia, la Ensign Theodore, che non se la passa benissimo. È una squadra costretta a ingaggiare piloti, definiremo pagati, che portano in dote munifici sponsor per poter gareggiare. Se il colombiano Roberto Guerrero può contare sull'appoggio dell'industria del caffè del suo paese, che quindi lo promuove e gli consente di correre, un'altra azienda di beverage, questa tutta italiana, ha scommesso pesantemente su Cecotto, che così ottiene il posto. Il 27 marzo 1983, a Long Island, Cecotto dimostra il suo valore anche su quattro ruote. Con un'auto pesante e poco performante come la Ensign Theodore, oltretutto rallentato da problemi al cambio, il venezuelano si iscrive nel libro dei record portando quell'auto al sesto posto finale e dunque conquistando il primo punto idiridato per un pilota venezuelano. Sono ancora molto 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 lontano i tempi di Pastor Maldonado, che solamente tanti tanti anni dopo vincerà una gara in Formula 1. E pensate, quando Cecotto raccoglie il suo primo punto, Maldonado ancora non è nato. Ma a questo punto entriamo in un ambito diverso, quello che si definirebbe le sliding doors del destino, quelle porte scorrevoli che, a seconda se si riesca o meno a attraversarle, cambiano la carriera. Anche in Formula 1 le occasioni possono capitare. E il 1984 pare essere l'anno giusto, con l'interessamento della Toleman. Sparita la scuderia di Teddy Heap, che deve chiudere il garage, il volante della scuderia britannica ha una piccola sicurezza, soprattutto perché la giovane squadra inglese ha fama di saper valorizzare il talento dei suoi piloti. Volete una riprova? Come compagno di box, Cecotto si ritrova ancora una volta un sudamericano. Non è più Guerrero. No, si tratta di un brasiliano. Un ragazzo che aveva già effettuato alcune prove e su cui più di un bookmaker all'epoca accettava scommesse in relazione allo sviluppo della carriera. Che Ayrton Senna magari l'avrete già sentito, a lui abbiamo dedicato un video, fosse un predestinato. Lo si era capito ben presto. Specie quando seppe portare quel catorcio della Toleman TG 183b a due sesti posti consecutivi per poi, con la nuova e più affidabile TG 184, salire sul secondo gradino del podio a Montecarlo. Cecotto fatica, vittima di rotture meccaniche della sua propria vettura, la vecchia TG 183b, affossata da turbine pessime e da pneumatici giudicati inconsistenti. Alcune voci che ci vanno nel paddock dicono che Senna abbia sempre la precedenza sul materiale migliore e dunque il compagno è una sorta di seconda guida da sacrificare. Non c'è simpatia tra Cecotto e Senna. Si rispettano il giusto ma non sono amici. Però arriva una grande occasione. La grande occasione è il Gran Premio di Gran Bretagna, 22 luglio 1984. Brent Thatch. Il destino, come si diceva, è fatto da porte scorrevoli. Se ci si infila magari ci ottiene qualcosa di buono. Se si viene respinti, beh, può far male. E quel destino, il 20 luglio del 1984, si dimostra molto duro nei confronti di Gianni Cecotto. Mancano due giorni alla corsa, prove libere. Cecotto è nel pieno del giro di qualifica. Quando arriva alla seconda curva, Westfield e la sua Toleman perde completamente deportanza e finisce contro le barriere. L'urto è davvero violento. La cellula della monoposto regge solo la metà e a fare le spese del contraccolpo sono le gambe del pilota venezuelano, colpite da fratture multiple esposte. Gianni viene portato in ospedale, viene sottoposto a un intervento chirurgico nella durata di oltre tre ore, che gli salva le gambe, ma che al contempo chiude per sempre la sua carriera in Formula 1. Quelle porte girevoli preferiscono ancora una volta Senna, che il giorno dopo, con la stessa vettura, su quella pista, coglie la pole position e il giorno dopo ancora si riconferma sul podio, terzo posto. Quel risultato, la pole prima, il terzo posto dopo. Convince la Lotus, una scuderia storica, gloriosa, a puntare su di lui. Il resto, come si suol dire, è storia. La poleman finisce invece in una spirale negativa, la questione di equipaggiamenti e di sponsor. Ma anche la poleman avrebbe riservato delle sorprese, perché di lì a un anno sarebbe stata rilevata dal gruppo industriale Benetton e trasformata nella scuderia omonima, capace già nel 1986 di vincere il suo primo Gran Premio. Vedete come può essere crudele il destino. Una scuderia che si trasforma in una grande squadra, un compagno di box che riesce a sfruttare al meglio la situazione e ottenere un ingaggio pesante. Chi paga il conto è il cecotto che deve archiviare i sogni di rientrare in un abitacolo da monoposto, perché le sue gambe non hanno più la forza necessaria per esercitare quelle forti pressioni sui pedali richieste dalla guida a ruote scoperte. Sfumati i contatti avviati con la Williams e con la Brabham, altre grandi scuderie. Il sudamericano torna a correre in auto, sì, ma in categorie minori, nel campionato turismo italiano e quello tedesco, dove vince tre titoli, fra il 1989 e il 1998, con il piccolo cruccio, ovviamente, di aver potuto dimostrare tutto il proprio talento, anche in Formula 1. C'è una curiosità su Johnny Cepotto. Nel 1990 il campionato DTM, quello tedesco, potrebbe cogliere un altro successo. A sbarrargli la strada, guardate gli scherzi del destino. È un altro pilota destiato a diventare molto famoso. È un ancora sconosciuto Michael Schumacher, che poco dopo il via dell'ultima gara, quella decisiva, gli frana addosso, con tutta la vettura, e lo instrumette dalla corsa. Cepotto non la prende bene. E anni dopo dirà che Schumacher ce l'ha nel sangue, fare certe manovre. Si veda nel 1994 con la corsa al titolo contro Damon Hill, oppure nel 1997 contro Jacques Villeneuve. Cepotto chiude la propria carriera. Finisce, una volta per tutte, di correre. Ma la città di Treviso e i suoi dintorni sarà per rapporto con il suo vecchio sposo personale. Gli rimane del cuore. Ma vive Rapunzano, poco lontano dal centro storico, assieme alla moglie Isabella, che gli ha dato due figli, Johnny Amadeus e Jonathan. Anche loro con la passione per i motori. Il primo corso, anche se con poca fortuna, nella categoria GP2. Nella memoria di tutti gli appassionati, resta ancora oggi la chioma ribelle al vento del Venezuelano volante. Il ragazzo dalle derapate al limite e delle imprese impossibili che seppe far ammattire il mito Giacomo Agostini e che fece sognare un intero paese, quello sudamericano. E chissà cosa avrebbe potuto fare senza quell'incidente e con un pizzico solo di fortuna in più. Ma sappiamo qualcosa di Gianni Cecotto e che non ha mai vissuto di rimpianti. La sua vita, la sua carriera lo dimostrano. E ancora oggi, magnifico pensionato, può ben dire di aver vissuto il periodo più bello, pericolato e anche romantico degli sport a motore. Quando più dell'elettronica, più della pubblicità, più dell'immagine, contava il manico, contando la freddezza, l'istinto, la meccanica, la capacità di messa a punto. Quando ci si sfidava su piste pericolose, quando si sfrecciava in sella a bolidi potentissime. Quando pilotare una Formula 1 poteva voler dire andare incontro a un incidente serio o morte. Gianni Cecotto tutto questo lo ha vissuto, lo ha visto con i suoi occhi. E è ancora oggi un magnifico testimone del periodo più bello, davvero più bello, degli sport a motore.